Per l'apertura della stagione 2018-2019 del Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, la direzione artistica firmata da Virna Prescenzo ha puntato su un classico di successo della stessa compagnia, il giallo di Veronica. Per il thriller liberamente tratto da un racconto di Aira Levin, Andrea Carraro, che ne ha curato la scrittura e la regia, ha voluto sul palco quattro bravi attori, Cinzia Ogatti e Matteo Amaturo in cast sin dalla prima edizione targata Piccolo Teatro del Giullare, Andrea Bloise che ha confermato in scena il suo carattere attoriale e Sara Riccio alla sua vincente prima. Lo spettacolo, ambientato nell'Italia del Sud, coniuga il senso del mistero a quello dell'ambiguità con il giusto equilibrio. Il prossimo spettacolo in cartellone, il 27 ed il 28 ottobre, è la quinta ora di Anna Mazza con Adele Pandolfi e la regia di Carlo Guitto. Invece il primo concerto per la sezione dei venerdì musicali sarà quello di Max Mafia ed Empty the Box in calendario il 9 novembre alle ore 21.30.